Allora lasciamo da parte la notizia, una delle notizie di apertura di tutti i giornali, purtroppo quella che ci fa fare un sorriso, cioè la vittoria della Coppa Davis da parte dell'Italia e che ovviamente che avete sentito nei telegiornali e visto e che comunque domina i giornali di oggi è senz'altro se non l'apertura in centro pagina. I temi di cui ci occuperemo invece sono ancora una volta nella puntata, sono molti, partiremo ancora guardando quello che sta accadendo in Israele. Oggi è interessante sicuramente la prima pagina di Financial Times con una notizia che adesso stanno rilanciando tutte le agenzie e che per la verità è contenuta anche in altri pezzi, ma come citazione di questo che è proprio una fonte che ha parlato in Financial Times del Qatar e che dice che Hamas perché si è stesa la tregua deve ritrovare 40 ostaggi che sono ancora nelle mani di altri gruppi e quindi di cui non ha traccia evidentemente forse neanche Hamas. Ne parleremo naturalmente con Silvia Brasca e con i nostri ospiti che vi presento. Poi gli altri temi di cui ci occuperemo sono sicuramente lo scontro politico e di nuovo lo scontro politica-magistratura innescato dalle parole del ministro Crosetto ieri e poi ancora la manifestazione di sabato di non una di meno con i suoi numeri abbastanza impressionanti che cosa significano, che significato politico hanno. Vi presento gli ospiti di questa prima parte della trasmissione. Allora intanto Giovanni Orsina, storico, buongiorno, bentornato a Omnibus, Università Lewis, non l'ho detto, anche editorialista della stampa. In collegamento vedo Nathalie Tocci dell'OIA, Istituto Affari Internazionali. Buongiorno, ciao. Mario Giro della comunità di Sant'Egidio, buongiorno e bentornato. Buongiorno. E l'annunciavo presentando il nostro tema di partenza, Silvia Brasca, inviato del Tg La7 a Tel Aviv. Ciao Silvia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. Comincio con te subito perché mi sembrava sicuramente degna di nota in apertura la notizia del Financial Times di questo che poi è una notizia che arriva dal Qatar, sono tutte fonti di Doha. Volevo sapere da te se insomma questo è il punto e a che punto è la trattativa sul campo. Allora, intanto oggi è una giornata molto importante perché è l'ultimo giorno del primo accordo raggiunto. Quindi dopo 39 ostaggi israeliani rilasciati, 18 stranieri e 117 detenuti palestinesi, oggi è già arrivata la lista con gli 11 ostaggi israeliani da rilasciare. E sarebbero gli ultimi secondo l'accordo che durava con una tregua di quattro giorni. Ma già da ieri è intervenuto Biden dopo la liberazione della piccola Abigail, della bambina di cittadinanza americana, aveva continuato a parlare, ieri ha proprio parlato di stare del lavoro incessante per far prolungare la tregua. Quindi ogni giorno in più con 10 ostaggi. Allora, si sapeva fin dall'inizio che Hamas non controllava tutti gli ostaggi. Alcuni erano nelle mani di Odela Jihad, che proprio oggi con Al Jazeera ha fatto sapere già quello che tutti comunque sapevamo, che per i soldati israeliani ostaggio il trattamento è diverso. Cioè quella sarà un'altra questione. Stiamo parlando in questo momento solo dei civili, Hamas non li controllerebbe tutti. Ma noi sappiamo che comunque Hamas controlla e come la striscia. Quindi anche se sono in mano ad alcune fazioni potrebbe avere tutto il potere per capire dove sono e cercare di riaverne il controllo totale per farli entrare in una lista di 90 che era quella presentata da Israele. Chi dice questo da un numero su 40 ostaggi è appunto un'intervista al Financial Times di Muhammad Al-Tani, che non è personaggio ovviamente secondario e che anche lui spinge ovviamente perché la tregua va davanti, lì va davanti, Israele aveva dato un tempo non più di 10 giorni, oggi sarà la giornata importante. Capire se anche domani sarà una giornata di tregua o tutto si interrompe. Alessandra. Grazie Silvia, questi 40 ostaggi se ho capito bene sono bambini e donne in larga parte, è così? Può essere donne o bambini. Noi ci ricordiamo che l'altro ieri ad esempio c'è stato un ritardo importante, la liberazione è scivolata di qualche ora, e proprio perché lì c'è stato un muro contro muro tra Hamas e Israele sulla tipologia di ostaggi da liberare. Sì, sono donne e bambini, sempre una ragazzina liberata l'altro ieri di 12 anni che era ostaggio con la madre, ha raccontato che la madre due giorni prima è stata allontanata ed è stata liberata lei da sola. Quindi comunque Hamas dispone come vuole. Quindi sanno tutto, insomma sanno quali gruppi, non è una ricerca complicata sapere dove stanno nelle mani di chi. Non dovrebbe essere una ricerca per Hamas. Non dovrebbe, insomma Hamas controlla la striscia, controlla la zona e tutto. Dove tutto un prezzo. Chiaro. Dove tutto un prezzo. Grazie Silvia, vado da Nathalie Tocci perché Nathalie scrivi sulla stampa di oggi che sradicare Hamas si è rivelato impossibile. Quindi come, insomma, se Israele dovesse o potesse rinunciare a questo obiettivo? Ma allora, ad oggi Israele non rinuncia minimamente a questo obiettivo. Che cosa intendo dire? Sappiamo quello che Israele ha fatto al nord della striscia di Gaza. Quindi un bombardamento a tappeto. E questo bombardamento a tappeto è stato possibile perché la popolazione della parte nord della striscia è stata di fatto sfollata a sud. Quindi in questo momento ci sono la quasi totalità dei 2 milioni e 3 abitanti della striscia di Gaza concentrati a sud. Allora, se Israele dovesse ripetere la stessa tattica a sud naturalmente sarebbe necessario sfollare anche questa di popolazione. Probabilmente quello che era il disegno originale di Israele era l'idea di sfollare questa popolazione in Egitto. Egitto che ha reso ben chiaro il fatto che non ci pensa minimamente. Sostanzialmente sia per motivi valoriali sia che per motivi molto pragmatici. Da un punto di vista valoriale se l'Egitto dovesse accettare di aprire appunto il valico e far fuoriuscire sostanzialmente l'intera popolazione di Gaza sarebbe complice in una seconda nakbar. Che sappiamo essere un po' il cuore della questione palestinese. Decreterebbe di fatto la fine della soluzione dei due stati. perché è abbastanza evidente che questa popolazione non ritornerebbe più nella striscia. A questo si aggiunge il fatto che come è noto naturalmente tra gli abitanti di Gaza ci sono anche i miliziani di Hamas che comunque rappresenterebbero diciamo una minaccia per la sicurezza dell'Egitto. Quindi l'Egitto non ci pensa minimamente. Quindi laddove appunto diventa impossibile sfollare l'intera popolazione del sud di Gaza diventa altrettanto impossibile ripetere la stessa tattica che è stata eseguita a nord. In questo senso dico l'impossibilità di sradicare Hamas perché ad oggi sono passate più di sette settimane Hamas è vive vegeta. Tant'è che l'accordo sugli ostaggi è stato negoziato con Hamas che come giustamente veniva detto non soltanto appunto controlla i propri ostaggi ma ha bene o male il controllo dell'intera striscia di Gaza e quindi anche di quegli ostaggi che non sono nelle sue mani. Quindi è una Hamas che a sette settimane, ahimè aggiungo, rimane pienamente in controllo. Volevo chiedere a Mario Giro se condivide questa analisi della situazione e anche però questo cosa significa se è una debolezza poi alla fine difficile da risolvere per Israele. No, io condivido Israele e negozia con Hamas da sempre e in particolare dal 2017 quando Hamas ha fatto credere ad Israele adesso noi vogliamo solo lo sviluppo fateci arrivare i soldi del Qatar anche i famosi soldi delle tasse eccetera eccetera e sotto sotto anche Netanyahu ha negoziato con Hamas e forse chi conosce meglio Hamas di tutti è proprio Israele e invece su una cosa sono meno sicuro che nel caos che si è creato sia nell'attacco del 7 ottobre quando abbiamo visto un sacco di cani sciolti muoversi e poi con i bombardamenti che Hamas controlli veramente tutti quanti gli ostaggi si era detto alcuni erano morti poi invece sono risultati vivi anche perché da una parte la jihad islamica non è un cliente così semplice nemmeno per Hamas anche in passato si è visto e poi perché ci sono appunto dei cani sciolti che hanno approfittato e non è detto che Hamas abbia il controllo in questo caos ha il controllo della striscia ma in questo caos riesca a identificare tutti quanti gli ostaggi abbiamo saputo anche abbiamo visto chi è vivo, chi è morto non è chiaro il numero esattamente eccetera detto questo però chi conosce meglio di tutti Hamas è proprio Israele e Israele si sta rendendo conto che il discorso della reazione è importante per Israele per dimostrare che c'è, che esiste c'è una questione anche di come dire di dignità dell'esercito eccetera volevano uccidere Sinuar vogliono ancora uccidere Sinuar che avrebbero ordinato l'attacco e anche dei, quelli che hanno ordinato l'attacco i capi dell'ala militare non ci sono ancora riusciti ci probabilmente, insomma ci riusciranno prima o poi Israele è abituato a queste cose tuttavia non sarà, come dice Natali Tocci non sarà possibile distruggere Hamas completamente e infatti la riunione da Ramallah sul governo unitario dei palestinesi lo sanno, se Israele come dice conosce così bene Hamas sa anche questo diciamo della conoscenza fa parte sa anche questo sa che non si può sradicare totalmente sì, nella riunione di Ramallah si è deciso di fare un governo di unità nazionale anche con Hamas insomma bisogna anche la stessa NP cioè l'autorità palestinese Abumaz ha bisogno di coinvolgere Hamas senza coinvolgerla con il suo benestare cioè tutti sanno che Hamas è un ingombrante soggetto che dovrà essere coinvolto anche se ufficialmente non tanto però è fondamentale questo perché paradossalmente oggi lo Stato palestinese può nascere proprio a Gaza più che in Cisgiordania dove sappiamo quanti sono gli ostacoli anche geografici perché possa nascere quindi Hamas ha questo vantaggio politico Alessandra, scusami prego perché poi volevo sentire fare una domanda al professor Orzina prego sì, volevo rispondere intanto se sei d'accordo è così sì, sono assolutamente d'accordo e volevo in realtà rispondere alla domanda che credo che giustamente ponevi cioè che di fatto se come giustamente diceva Mario Israele conosce Hamas più di chiunque altro e quindi se probabilmente anche Israele sa insomma sradicare Hamas non è obiettivo quantomeno diciamo semplice da raggiungere che cosa pensa Israele e ti dico ti do due motivi per cui nonostante questo esiste comunque una una dinamica una forza una spinta molto forte comunque a continuare la guerra la prima riguarda Netanyahu ossia il fatto che Netanyahu che cosa vuole più di qualunque cosa rimanere al potere se non altro perché se non è al potere probabilmente la finisce la finisce in cattabuia quindi Netanyahu qual è l'unico modo che ha per rimanere attaccato alla sedia evitare le elezioni finché ci sarà una guerra si evitano le elezioni secondo motivo riguarda invece non soltanto il suo governo malestablishment politico-militare in senso più ampio che è il fallimento politico-militare di intelligence il 7 ottobre l'abbiamo detto tante volte è stato colossale quindi loro hanno bisogno di far vedere qualcosa mostrare qualcosa come giustamente diceva Mario nonostante questo non significherà non significherà l'osradicamento di Hamas un risultato come la testa di Yaki a Singuar potrebbe essere comunque raccontato come una vittoria quindi questo obiettivo poi vedo c'è anche Silvia Brasca e poi torno anche da lei ovviamente che è a Tel Aviv da diverso tempo però volevo intanto chiedere qual è la sua opinione al professor Orzina sulla situazione nello specifico e poi come dire allargare un po' lo sguardo sul come al solito sull'Occidente che è il nostro punto di vista e di osservazione nel suo complesso perché mi ha colpito anche l'intervista che pubblica oggi il Corriere di Marilisa Palumbo al presidente ceco Pavel che è molto è molto amara e dice le incertezze dell'Europa hanno danneggiato l'Ucraina e ridato come dire insomma ridato anche un po' di fiato a Putin metterei anche questo nella nostra analisi insomma io concordo con tutto quello che è stato che è stato detto credo che ci sia un elemento da aggiungere ovvero che diciamo l'insistenza di Israele per diciamo l'interesse di Israele a portare qualcosa a casa diciamo a portare a dimostrare che questa vicenda non si conclude con una sua sconfitta e nemmeno con un pareggio ma insomma che che alla fine ne esce ne esce vincitore non abbia soltanto cause di politica interna che erano quelle che evidenziava Natali Tocci che ci sono effettivamente naturalmente ma appartiene anche al fatto che Israele deve diciamo lo shock del 7 ottobre è stato tale che Israele deve dimostrare a tutti i suoi interlocutori che quel tipo di aggressione lì è un tipo di aggressione che non conviene a chi a chi l'ha fatta io credo che qui ci sia un elemento molto molto importante nel quale Israele deve dimostrare che è tornato in controllo ha perduto il controllo per un attimo ma è tornato in controllo potrebbe bastare colpire la figura uno dei leader i mandanti dell'attacco questo potrebbe essere sufficiente questo bisognerebbe avere diciamo un quadro interno della sensibilità dell'area che io non ho però almeno certamente tutte le difficoltà enormi che sono state scritte sono tutte quante tutte reali però è ben evidente che Israele deve portare qualcosa di più quello che quello che è accaduto finora a mio avviso non è considerato sufficiente da riequilibrare da riequilibrare nonostante il numero immenso di morti di vittime a Gaza perché c'è bisogno di una dimostrazione simbolica che Hamas ha pagato un prezzo enorme non soltanto la striscia di Gaza non soltanto diciamo collettivo ma c'è stato anche la dirigenza secondo me questo potrebbe essere un risultato da portare quindi c'è questo elemento per il resto no non c'è dubbio che il tema diciamo dell'Occidente rispetto a tutto questo è un tema è un tema che resta centrale le incertezze sull'Ucraina ci sono state naturalmente nel contesto invece medio orientale la divisione appare ancora più profonda la divisione dell'opinione pubblica la divisione tra le forze politiche l'Italia è un caso diciamo diverso nel quale le forze politiche sono state più unite per molti versi dell'opinione pubblica però qui c'è un tema di ripensamento complessivo della politica del blocco occidentale e di quello europeo in particolare volevo chiedere a Silvia Brasca com'è diciamo la percezione anche di opinione pubblica stando a Tel Aviv come rispetto alle cose che si sono dette e a quale potrebbe essere un obiettivo adesso sottolineo anche segnalo che in prima pagina l'edizione internazionale del New York Times non so poi se riusciamo a recuperarla perché non l'avevo mandata per la verità alla regia però aveva un pezzo in cui ancora una volta si dice il dilemma di Israele non sa che fare dopo la tregua e questo mi sembra comunque un punto questa incertezza allora qua rispetto a quello che si diceva in studio c'è una sicurezza che è quella da garantire alle zone del sud e del nord una volta che finirà l'offensiva ricordiamo che qua ci sono più di 200.000 sfollati c'è una fascia intorno alla striscia la fascia a nord ci sono delle città Sderot al sud al nord Metulla Kiriatspona insomma sono città fantasma tutta la parte sud non solo oltre la fascia è sfollata e quella era una zona che garantiva importantissima per l'agricoltura di Israele i numeri qua sono limitati appunto 200.000 sfollati israeliani non sono pochi in questo momento sono tutti negli alberghi quindi Israele deve garantire lo Stato Israele il ritorno dei suoi cittadini in una situazione di sicurezza con certo avranno sempre forse la camera blindata il Mahmad ma sicuramente non vogliono stare più come era già prima del 7 del 7 settembre riguardo appunto a dove nascerà lo Stato lo Stato palestinese l'ipotesi appunto che faceva di Gaza a casa ricordiamolo che è l'unico controllato interamente dai palestinesi in Cisgiordania c'è l'elefante una colonia di elefanti che sono i coloni nella stanza e quindi quello sistemare il problema delle colonie in Cisgiordania insomma sarà importante su appunto in questo momento vittoria di Israele è una parola difficile parliamo di successi o dei simboli certo Simwar sarebbe un simbolo sufficiente diciamo a dichiarare un successo e un riscatto rispetto al 7 ottobre il riscatto è riuscire a mettere in sicurezza con Simwar e riuscire a rimettere in sicurezza le zone del sud comunque riuscire a creare una situazione in cui se lo vorranno gli abitanti dei chibuzzi che sono stati che sono stati distrutti quello che rimane di quegli abitanti possa ritornare e tanti e tanti lo vorrebbero vorrebbero avere questa voglia di ricostruire ma un altro dettaglio sul quale pare concordino alcuni analisti è che nell'accordo col Qatar Netanyahu si sarebbe impegnato a non colpire esponenti di Hamas in Qatar aveva fatto questa dichiarazione proprio quando era stato è senz'altro una sottolineatura importante allora so che poi Natali Tocci ci deve lasciare volevo fare anche a te questa la domanda diciamo più complessiva allargando lo sguardo anche all'Ucraina dicevo mi ha colpito questa intervista al presidente Ceco Pavel perché lui dice sfortunatamente le consegne di equipaggiamento militari non sono state sufficienti a permettere all'Ucraina di continuare un'operazione ad alta intensità quindi diciamo sulla scarsa efficacia della controoffensiva diciamo punta il dito accusatore anche su incertezze lentezze dell'Europa e volevo chiedersi se è così e anche se la riammissione in un certo senso di Putin in un consesso internazionale che si è vista nei giorni scorsi se anche quella è significativa però di un di un quadro ancora più difficile per Kiev e per Zelensky sì assolutamente sì Alessandro allora sul passato sia sulla controoffensiva che effettivamente non ha ottenuto grandi risultati sì credo che ci sia stato un tema di capacità militari credo che ci sia stato anche un enorme tema di addestramento e che comunque tutto questo è arrivato troppo poco troppo tardi permettendo alla Russia di fortificare in modo piuttosto impressionante tutti quei 900 chilometri quasi appunto di linea di contatto ma effettivamente il tema forse ancora più importante più rilevante è adesso questo nesso con la guerra in Medio Oriente in cui io in questo momento sono estremamente pessimista sostanzialmente per due motivi per quello che riguarda non tanto l'Europa ma gli Stati Uniti credo che effettivamente ci sarà un trade off di capacità militari all'Ucraina anziché a Israele o meglio viceversa credo che questo non riguardi tanto l'Europa perché non è che l'Europa stia dando assistenza militare ad Israele è più un tema degli Stati Uniti dove effettivamente non soltanto adesso in quest'anno sotto l'amministrazione Biden ma che Dio voglia laddove ci dovesse essere un ritorno di Donald Trump questo come dire questo equilibrio tra Ucraina e questo scambio diciamo tra Ucraina e Israele sarebbe così ma il punto che sottolineavi riguarda in realtà non tanto diciamo il supporto militare quanto la credibilità dell'Occidente anziché la credibilità della Russia in quello che poi più generalmente chiamiamo a volte a sproposito il sud globale il sud del mondo e credo che effettivamente la credibilità dell'Occidente sia stata drammaticamente come dire sia diminuita drammaticamente sia stata drammaticamente come dire lesa dall'approccio che abbiamo avuto a queste due guerre che hanno sottolineato ahimè ancora una volta quelli che generalmente vengono considerati doppi standard dei paesi occidentali in un tempo quando questo sud del mondo contava poco diciamo come dire si era un problema di carattere etico morale ma non tanto politico e strategico in un mondo in cui questo resto del mondo conta e come questa credibilità all'esa dell'Occidente rappresenta un problema drammatico allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità ringrazio Silvia Brasca Natali Tocci restate con noi restano con noi Mario Giro e il professor Orsini allora di nuovo in diretta intanto do il buongiorno e benvenuto ad Alberto Gentili di Alpington Post buongiorno è ancora con noi Giovanni Orsina Mario Giro Alberto la tua esperienza di cronista che è di lungo corso senza fare come dire denunce anagrafiche volevo dirti questo insomma questo scontro innescato dalle parole di Crosetto è nuovo o vecchio prima di farti rispondere però leggo quali sono state le dichiarazioni ieri in un'intervista al Corriere di Paola Di Caro le parole di Crosetto oggi le riprendo dal fatto quotidiano ma è il virgolettato esatto l'unico grande pericolo è quello per il governo intende dire è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre che ha sempre affossato i governi di centrodestra ovvero l'opposizione giudiziaria a me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni siccome ne abbiamo viste di tutti i colori in passato mi aspetto che si apra presto questa stagione prima delle europee è nuova è vecchia direi che è vecchia mi parlavi proprio di esperienza io dal 94 che sono giornista parlamentare quindi presa poco quando scende politica da Silvio Berlusconi è da allora che è un ripercorrersi di questi presunti tacchi della magistratura che bisogna anche dirlo ci sono stati e la presunta persecuzione da parte dei giudici verso una parte politica che era quella di Silvio Berlusconi la novità qual è questa volta però che finora di complotto di strategie per buttare giù il governo ne avevano parlato Giorgia Meloni Mantovano e quelle pur dimenticando che in qualche modo hanno il controllo totale sia del Parlamento dove hanno una maggioranza blindata che sia dei centri di potere di questo paese quindi è curioso che parli in complotto però ne avevano parlato perché loro vengono da tradizione politica che li aveva visti sempre esclusi quindi scatta immediatamente la sindrome della persecuzione lo fa adesso Crosetto e Crosetto non ha quella esperienza politica non viene da quella esperienza politica ma viene dalla democrazia cristiana e da Forza Italia e forse si spiega proprio così perché lui metta nel mirino i magistrati perché è proprio tradizione politica di Forza Italia andare allo sconto con la magistratura e poi in una fase ne parleremo anche dopo se vuoi in cui si parla di riforme importanti la separazione delle carriere il libretto con i voti per i magistrati quindi si muove qualcosa e quindi ecco questo è l'acuirsi dello scontro Anche la reazione della magistratura è stata dire di una parte della magistratura il Corriere della Sera ha un'intervista al segretario della corrente area che è la corrente diciamo della sinistra giudiziaria e dice ha voluto delegittimare in anticipo ogni eventuale inchiesta professor Orzini No ma che ci sia un'ostilità di una parte un'ostilità culturale e politica di una parte della magistratura nei confronti di questo questo governo e che probabilmente nelle riunioni di queste correnti si siano dette cose come quelle che cita che cita il ministro tutto quanto questo è molto ma molto probabile insomma che ci sia un una parte della magistratura che ha delle convinzioni diciamo in senso lato politiche culturali molto robuste questo è un fatto appunto ma anche da prima del 94 diciamo che affonda le radici già negli ultimi decenni della cosiddetta prima repubblica quindi questo elemento a me sembra abbastanza abbastanza diciamo scontato però perché farlo perché farlo ora e perché in questo modo perché è un modo allusivo tutto sommato e già tra l'altro Crosetto già aveva fatto delle dichiarazioni del genere in passato insomma in un governo poi che ha una maggioranza solide anche i numeri per fare la riforma della giustizia se vuole ma infatti il dubbio è questo e il dubbio è perché tutto quanto questo accada in questo momento perché poi naturalmente l'ostilità politico-culturale è una cosa i dibattiti di natura politico-culturale che si svolgono all'interno di una corrente della magistratura sono una cosa un'inchiesta né un'altra poi naturalmente noi sappiamo che le inchieste in questi ultimi decenni sono entrate prepotentemente all'interno della politica si sono politicizzate hanno fatto parte della polemica politica però poi l'inchiesta è un atto specificamente giudiziario che dovrebbe essere valutato per la sua fondatezza giudiziaria quindi il problema è questo il salto cioè fra l'ostilità di una parte della cultura non soltanto peraltro della magistratura ma della cultura giuridica generale di questo paese che come sappiamo anche in queste ultime settimane ha fortemente criticato la proposta di riforma della Costituzione per non prendere che un esempio e poi il passaggio sull'inchiesta specifica e su questo bisogna capire se il ministro Crosetto se ci sono delle cose che stanno bollendo in pentola dal mio punto di osservazione che è il punto di osservazione esterno non c'è nulla però il punto è questo ci sono delle inchieste in corso sicuramente ma pare che il vero timone sia riferito all'attuazione del PNRR del piano nazionale di ripresa e resilienza cioè che il timore del governo è che da qui a giugno che giugno si vota per le elezioni europee quindi non dimentichiamo un passaggio importante di metterme per il governo da qui a giugno possono scattare delle inchieste che riguardano proprio l'attuazione del PNRR che già è in ritardo già basta balbettando a volte in ciampa quindi se poi arriva una grandinata di inchieste sul PNRR si ferma tutto si fermano tutti quei cantieri e appalti d'altra parte se ci sono degli illeciti o delle notizie volevo chiedere a Mario Giro come vede questo capitolo questa riapertura di scontro istituzionale insomma direi più politico per la verità ma direi che gli esperti hanno già parlato Orsina e Gentili ne sanno molto più di me non è il tema diciamo un tema su cui io sia particolarmente ferrato no direi soltanto dobbiamo tenere presente che la magistratura è uno dei poteri costituzionali dello Stato lo sappiamo il potere giudiziario è che c'è uno scontro in Europa all'argo un po' già da tempo che fa parte della crisi della democrazia in alcuni paesi il potere esecutivo cerca diciamo di cambiare tra virgolette l'equilibrio con cui che c'è con la magistratura l'abbiamo visto in Polonia abbiamo visto in Ungheria a questo fanno riferimento spesso i critici dell'attuale maggioranza per dire ecco c'è il pericolo eccetera ma in realtà è un riassetto in questo momento è un dibattito che riguarda tutto l'Occidente pensiamo anche a Israele nella fase precedente il 7 ottobre tutta la polemica sui poteri della Corte Suprema non c'è costituzione in Israele quindi la Corte Suprema è fondamentale pensiamo anche agli Stati Uniti quindi questo discorso fa parte diciamo della democrazia la democrazia è questo è un dibattito continuo sui poteri costituiti dalle diciamo costituiti e sull'equilibrio quello che gli americani chiamano i checks and balances ovviamente ognuno tira la coperta nella sua direzione cerca di essere più forte diciamo degli altri poteri esiste anche il terzo potere che è quello dei parlamenti come vediamo in Francia per esempio dove il governo governa in questo momento senza maggioranza a colpi di decreto diremmo noi in Italia a colpi di decreto senza avere la maggioranza in Parlamento le leggi passano così quindi e questo mette in discussione siamo in un periodo in cui la democrazia si sta ridefinendo io ho le mie opinioni su questo però quello che interessa sapere ai nostri telespettatori è che non è solo l'Italia perché noi abbiamo questa idea tutta italiana di pensare che le cose accadono solo da noi che solo tanto da noi ci sono questi problemi no non è così anche in paesi molto tranquilli del nostro all'apparenza la discussione la lotta anche qualcosa di simile a un ministro anche qualcosa di simile a un ministro della difesa che come dire fa questa denuncia preventiva abbiamo in Francia per non andare tanto lontano abbiamo in Francia un ministro della giustizia che ha attaccato la magistratura che è un avvocato e che è stato messo sotto accusa e forse si dovrà dimettere la prossima settimana un ministro importante un avvocato di grido che si è messo di piatto contro e ha fatto diciamo appena è diventato ministro ha fatto mettere sotto sotto ascolto e sotto sotto inchiesta sotto indagine scusate alcuni alcuni magistrati poi in Francia tra l'altro in Francia il potere esecutivo ha più influenza insomma ha più competenza ma non è indipendenza diciamo l'indipendenza che c'è in Italia non c'è altrove e forse non ce la fa nemmeno lui chiedo al professor Orzina su questa diciamo a questo campo più largo dell'attacco al diciamo del conflitto tra esecutivi e potere giudiziario no ma è evidente che il caso italiano è un caso cioè la specifica che manifesta diciamo in una forma specifica in una forma secondo me per certi versi amplificata un problema che è un problema di tutto l'Occidente ma diciamo il discorso se lo prendiamo ma che cos'è un'insofferenza del no ma noi viviamo molto banalmente prendendola in chiave storica noi viviamo nell'epoca di diritti individuali che è un'epoca che non è che è cominciata oggi o ieri è un'epoca che comincia negli anni 70 dagli anni 70 i diritti individuali si sono molto espansi diritti individuali di libertà diritti sociali ricordiamoci insomma comincia proprio nella seconda metà degli anni 70 con un'ondata di allargamento dei diritti che riguarda tutte le democrazie avanzate e che poi diritti che restano larghi e anzi poi nei decenni successivi si allargano ulteriormente è chiaro che tutto quanto questo amplia il campo della magistratura perché più amplio il campo dei diritti individuali più trasferisco potere a quel potere dello Stato che è preposto alla tutela dei diritti individuali pensiamo a quanto le corti costituzionali abbiano allargato il proprio potere in Francia lo allargano con una sentenza del 1971 cioè non è storia appunto di ieri o dell'altro ieri comincia a essere una storia cinquantennale le corti costituzionali anche hanno ampliato i propri poteri insomma c'è stato in questi decenni un processo di allargamento degli spazi della magistratura che è andato di pari passo con l'allargamento per così dire è come se ci fosse un contraccolpo in questo senso è una questione di equilibrio fra liberalismo e democrazia in questi ultimi anni sono state scritte tante cose su questo cioè tra i diritti individuali e invece gli strumenti del governo collettivo questo che è uno scontro teorico in concreto è uno scontro fra il potere esecutivo e il potere giudiziario cioè fra il potere giudiziario che tutela i diritti degli individui e il potere esecutivo che è quello che ha la funzione di governare la collettività quindi è assolutamente come dice Mario Giro pensiamo soltanto a quanto pensiamo soltanto solo una frase soltanto a quanto sono entrati in gioco nella definizione dei risultati elettorali la magistratura e i vari livelli federali statali dei tribunali in America certo sì chiaro Alberto Gentili vorrei tornare diciamo sul terreno dello scontro politico perché molti retroscena di oggi segnalano che Giorgia Meloni era perfettamente al corrente del fatto che Crosetto avrebbe detto quelle parole che ha detto e quindi questa allusione anzi questo attacco diciamo chiamiamolo preventivo per semplificare quindi che fosse diciamo concordato in linea con con l'idea della premia del resto aveva fatto un attacco simile al tempo dell'inchiesta su Del Mastro perché inchieste che riguardano Fratelli Italia ce ne sono me le sono appuntato ecco quella di Del Mastro per imputazione coatta perché ce lo ricordiamo tutti quando Del Mastro riferì nell'aula della Camera di quanto gli aveva raccontato nel tinello di casa il suo coinquino Donzelli esconente di Fratelli d'Italia Donzelli e Del Mastro ha raccontato a Donzelli sul caso cospito quindi c'è stata imputazione coatta poi ci sono state le inchieste sulla Russia l'indagine sulla visibilia di Sant'Anchè il giudice di Catania Apostolico Iolanda Apostolico che ha contraddetto la permanenza coatta nei centri di accoglienza per i migranti stabilita al decreto Cutro e ultima i figli della Casellati Ludovica Alvise per evasione fiscale e fatture false il direttore d'orchestra ecco sì quindi non lo so quanto ci sia di persecutorio da parte della magistratura per questi eventi perché se li andiamo a vedere non è che c'è proprio un sembrano diciamo costruite su nulla queste indagini che la Meloni fosse informata è molto probabile perché Corsetto non è uno che passa dentro Fratelli d'Italia è il cofondatore e poi un attacco così devastante perché quando si parla di fatto di strategia per far cadere il governo si parla insomma di una costruzione di un gulp quindi tant'è che Corsetto a questo punto avendo capito che insomma di aver detto parole importanti si è stato anche disposto a riferire al Copasir e alla commissione antimafia questo può pensare che però ci si possano essere dei fatti specifici probabilmente lui sa di riunioni non ci troverei nulla di sorprendente perché come diceva Orsina i giudici in questo paese spesso si fanno sentire anche a livello politico hanno scritto la storia di questo paese non scrodiamoci da Angentopoli di Pietro che poi sono scendi in politica quindi non è da escludere che i giudici di una certa area politica abbiano discusso del fatto che questo governo per loro rappresenta una minaccia la storia di area dice beh c'è Radio Radicale che ha registrato le nostre riunioni ma perché rappresenta una minaccia questo governo forse bisognerebbe anche andare a fondo c'è allo studio una legge una riforma costituzionale con la separazione delle carriere non è cosa da poco cioè dividere quindi il percorso della magistratura giudicante da quella insomma da quella accusatrice insomma che indaga non è da poco come non è da poco quello che accennavo prima cioè il fatto che finalmente perché dico finalmente ci saranno dei libretti per ogni singolo magistrato con dei voti se avranno svolto bene il loro lavoro andranno avanti nella carriera altrimenti no questi sono anche previsti dal PNRR peraltro è una delle riforme e non dimentichiamoci che la giustizia è il vero freno per questo paese cioè se l'economia se i grandi investitori internazionali faticano a arrivare in Italia perché la giustizia non brilla in efficienza quindi diciamo la ragione non è né dall'una né dall'altra parte direi volevo chiedere a Giovanni Orsina se però questo diciamo dare una lettura politica ancora se è un altro capitolo di questa sorta di vittimismo che il governo Meloni ogni tanto lascia affiorare mostrandosi mostrando delle preoccupazioni che non sempre sembrano come dire comprensibili rispetto poi anche al quadro dell'opposizione per esempio che non è particolarmente efficace anche se e ci arriveremo poi subito dopo la pausa pubblicitaria in realtà si è vista si è vista un'opposizione non so se valutarla così anche nella piazza di sabato no ma oggettivamente è un altro capitolo in quella in quella storia diciamo di in questo atteggiamento psicologico che spesso appare da parte dei membri di questo governo che è quello diciamo appunto della minoranza o della del piccolo che è circondato da tutti i grandi poteri però fa proprio fa il proprio dovere diciamo è curioso da parte di Crosetto perché come si diceva Crosetto viene da una storia molto diversa mentre questo tipo di atteggiamento psicologico un atteggiamento psicologico tipico di chi viene diciamo dalla storia di Giorgia Meloni dalla storia del polo escluso e quindi da questa da questa diciamo atteggiamento di a metà fra eroismo e sudditanza anche se poi lei ha avuto la parte del Berlusconi insomma della fase berlusconiana del PDL dove diciamo così stava dentro una storia di governo alla fine no ma infatti questo è tutto è tutto molto paradossale perché è una sorta come dire di persistenza perché mentre il tema del polo escluso è stato un tema molto importante per la generazione di Larussa per una persona che è entrata in politica in una fase nella quale veramente fare politica da quella parte era più difficile che farla altrove per una come Giorgia Meloni che è entrata in politica negli anni 90 quando ormai diciamo lo sdoganamento come si disse all'epoca era stato ultimato che è stato in definitiva il più giovane ministro della Repubblica è chiaro che questo tipo di interpretazione è un'interpretazione che stride un po' di più con la realtà però è un segno del fatto che certi percorsi formativi certe diciamo come dire temperie culturali continuano ad avere continuano ad avere un loro ruolo appunto è strano da Crosetto questo però ci fa questo diciamo porta a pensare che mettano in atto la riforma della giustizia o no questo governo perché in realtà è sembrato come dire essere messa in terzo piano rispetto a premierato poi chissà come va comunque diciamo le riforme istituzionali della forma di governo e anche rispetto all'autonomia era il terzo posto Nordio molto indisparte cioè questo caso Crosetto invece riporta ma è un po' sembra un po' una strategia dell'elastico nel senso che poi questa riforma sembra appunto non andare avanti ma sembra non andare avanti per una precisa volontà politica da parte di Palazzo Chigi che non vuole a quel che sembra lo scontro con la magistratura cioè c'è un tema a mio avviso per cui questo governo ritiene che quello sia una riforma particolarmente sensibile particolarmente pericolosa e peraltro probabilmente ci sono anche divisioni interne rispetto a queste riforme perché dentro la maggioranza c'è un'anima più garantista e un'anima invece meno garantista questo mi sembra abbastanza evidente e poi ogni tanto quella famosa nota di Palazzo Chigi che uscì mesi fa adesso questa uscita di Crosetto a quel che sembra concordata con Meloni invece ci sono delle accelerazioni e io francamente non riesco a leggerla nel senso che mi sembrano mi sembrano mosse che vanno in direzioni diverse sembra un poste ci vorrà qualche schizzoide questo atteggiamento sì molto rapidamente perché devo andare in pubblicità vedo già Giorgia Serughetti in collegamento pronta prego Mario Giro no io direi ma guardiamo a questo fatto diciamo a questa lotta tra poteri nelle democrazie occidentali dal lato dei cittadini cosa vogliono i cittadini i cittadini vogliono dei governi degli esecutivi che decidano e che reggano e che si tengano si mantengano sì vogliono anche una magistratura che faccia da cane da guardia sì quindi la situazione è contraddittoria e c'è un cortocircuito c'è tra le stesse volontà dei cittadini vogliamo entrambe le cose per questo diventa tutto più complicato vogliamo una democrazia che decida che faccia ma vogliamo anche una democrazia del controllo in cui tutto sia sottoposto continuamente al controllo e noi vogliamo entrambe le cose ed è questo che vediamo scoggi anche però una giustizia che persegua i reati individualmente come dicono con richieste che si reggano in piedi un cane da guardia che sia sempre lì a controllare certo per questo per esempio in Italia avevamo sei leggi sugli appalti adesso abbiamo una massa di leggi sui lavori pubblici è difficilissimo come diceva giustamente Gentili dopo di che diventa tutto molto più complicato ma è una cosa che abbiamo voluto chiaro allora ci dobbiamo fermare pubblicità ma restate con noi C'è uno spazio pubblico che si apre su un tema che è quello della violenza di genere e patriarcale rifiutiamo la vittimizzazione rifiutiamo le politiche che vengono messe in atto anche da questo governo sulla violenza e per ogni sorella che toccherete risponderemo tutte la rivoluzione parte dalle piazze non dai seggi dei parlamenti si sa è una rivoluzione culturale quella di cui abbiamo bisogno non di opuscoli da distribuire nelle scuole non di leggi più dure chi fa violenza non gliene frega niente delle leggi non pensa a quello che può accadere le misure che sta prendendo questo governo per contrastare la violenza di genere che è un fenomeno dilagante sono assolutamente insufficienti e noi questo lo vogliamo dire una domanda ci è stata posta c'è bisogno di una riscrittura dei programmi governativi all'interno delle scuole non ci bastano le 12 ore proposte dal ministro dell'istruzione Valditara E trevi E trevi E trevi ogni fascista Ossi Roma è transfeminista Per Giulia per tutte non basta il lutto sorella via distruggi tutto La storia di Giulia il discorso che ha fatto sua sorella hanno veramente smosso qualcosa hanno smosso qualcosa perché io ho provato delle emozioni di isolazione di solitudine di rabbia e di tristezza e affacciandomi con le mie amiche mi sono resa conto di non essere l'unica a provare queste cose Per Giulia e per tutte queste donne non facciamo un minuto di silenzio Per Giulia e per tutte queste donne bruciamo tutto Perché le istituzioni tutti dobbiamo fare qualcosa partendo da noi uomini e poi andando al ministero della salute e poi andando al ministero dell'istruzione andando per il ministero dell'interno ma dobbiamo essere noi uomini che dobbiamo creare una manifestazione per le donne noi uomini non le donne per le donne ecco sono in c***o per questo e mi vergogno Allora erano le voci raccolte alle manifestazioni di sabato da Antonella Galli e vi presento gli ospiti di questa ultima parte della trasmissione allora intanto Gianna Fregonara del Corriere della Sera e Orsola Riva del Corriere della Sera hanno scritto un libro Non sparate sulla scuola tutto quello che non vi dicono sull'istruzione in Italia pubblicato da Solferino in collegamento c'è Giorgia Serughetti filosofa della politica ricercatrice alla facoltà di sociologia a Milano ha pubblicato un libro che si chiama un saggio che si chiama La società esiste per la terza Giorgia Serughetti parto da lei perché vorrei che ci aiutasse anche a capire che piazza è che piazza è stata quella che si è vista sabato intanto è stata una delle piazze più grandi degli ultimi decenni ed è una piazza che non ha convocato nessuna organizzazione strutturata non un sindacato non un partito una piazza senza bandiere piena invece di cartelli e questa forza va spiegata non era naturalmente la prima manifestazione le manifestazioni in una di meno si svolgono annualmente il 25 novembre o dintorni dal 2016 sono sempre molto frequentate quest'anno però era una piazza particolarmente grande perché forse raccoglieva anche un grande desiderio di partecipare alla politica di questo tempo nelle forme e nei modi che oggi le persone soprattutto le donne giovani giovanissime sentono più proprie quindi quella della partecipazione spontanea in massa intorno a grandi temi che riguardano la vita innanzitutto la vita come sopravvivenza proprio il bisogno di restare in vita alcune delle testimonianze che anche voi avete raccolto parlano proprio di questo parlano della paura che questo ennesimo femminicidio ha diffuso tra le ragazze e che però le ragazze questo è stato molto importante la sorella di Giulia Cecchettin Elena Cecchettin le ragazze hanno trasformato in energia politica tutto questo è avvenuto in maniera completamente spontanea nelle scuole trasformare il minuto di silenzio il minuto di rumore il fatto di costruire occasioni pubbliche per parlarne manifestazioni presidi è tutto un lessico e un agire politico che supera ad un balzo le ritualità che invece avevamo visto come dire agire negli anni passati organizzati anche dalle istituzioni le fiaccolate modalità più luttuose di elaborare il fenomeno di stringersi intorno alle vittime di femminicidio invece questo è stato veramente un urlo di rabbia ma anche un urlo di gioia permettetemi mi pare di stare insieme e il femminismo è sempre un po' questo un momento di le grandi manifestazioni femministe consegnano anche un'energia che è data dalla gioia di trovarsi insieme innanzitutto fra donne uscire ognuno dal proprio angolo è una manifestazione una piazza Gianna Fregonara femminista e quanto ha inciso il particolare shock emotivo anche che la vicenda di Giulia Cecchettini il femminicidio sicuramente ha inciso lo shock emotivo è una piazza anche di giovani di molte giovani che ha anche degli slogan che sono diversi che sono nuovi secondo me anche questo è importante che c'è stata anche una partecipazione veramente questa volta delle generazioni più giovani perché quest'ultimo femminicidio ha veramente portato la violenza diciamo ha fatto vedere che la violenza riguarda anche sono ragazzi universitari questi che sono sia Giulia che il suo assassino quindi questo secondo me lo diceva bene anche Serughetti è una da una nuova una nuova forza a questo tipo di movimento che cosa resta ha parlato di un movimento diciamo che ha una forza politica ecco bisogna vedere che cosa resta che non è stato convocato da partiti o sindacati ma che cosa resterà da oggi in poi di questa di questa di questa Maria bisognerà canalizzare questo tutta questa forza questa è un po' la sfida che non si disperda e non ci si ritrovi il prossimo 25 novembre ed era però una piazza questo lo chiedo Alberto Gentili prima poi di dare la parola a Orsola Riva e tornare anche da Mario Giro che con noi era una piazza come dire di opposizione per dare una lettura politica direi proprio di no questa è una piazza antigovernativa cioè una piazza femminista secondo me questa è la piazza più femminista che non vedevamo da decenni perché non è solo sulla morte di Giulia sono tanti purtroppo i femminicidi ma questo femminicidio aveva delle connotazioni particolari perché si è visto come questo assassino il suo fidanzato negasse la libertà a questa ragazza di prendere una laurea affermasse il controllo su ogni azione di questa ragazza il possesso una sopraffazione è questo che ha mosso questa piazza più che l'ennesimo omicidio di una povera donna ammazzata dall'ex compagno geloso è venuta alla luce proprio una forma di controllo patriarcale maschilista che ha innescato questa piazza però non dimentichiamo che in questa piazza almeno uno su dieci erano uomini gli uomini gli stessi ragazzi stanno cominciando a prendere consapevolezza che deve cambiare l'approccio al proprio compagno alla propria fidanzata poi è una speranza da vedere come andrà Orsola Riva intanto c'era una richiesta abbiamo sentito anche nelle voci raccolte da Antonella Galli una richiesta specifica anche alla scuola per l'appunto di portare dei programmi precisi non soltanto delle ore estemporanee insomma che è stata che è stata l'offerta del ministro dell'istruzione diciamo che questa poteva essere l'occasione cioè sull'onda anche emotiva di quello che è successo si poteva finalmente affrontare la questione dell'educazione all'affettività o sessuale come la si vuole chiamare che è un buco nella scuola italiana nel senso che in tutti gli altri paesi l'educazione sessuale è una realtà da tantissimo tempo ma non in Svezia dove c'è dagli anni 50 dalla metà degli anni 50 in Germania e in Austria c'è dagli anni 70 ma in Francia in Inghilterra in Spagna in Portogallo in Irlanda e da noi non c'è non c'è perché non è mai stata fatta non è un problema solo di oggi oggi poteva essere l'occasione qualcuno ha provato a dirlo per esempio la segretaria del PD Schlein ha detto è il momento facciamolo e invece si è scelta una soluzione che può essere anche magari solo come dire di passaggio però una soluzione transitoria che è quella di introdurre sperimentalmente solo nelle scuole che vorranno aderire a titolo volontario dei programmi di educazione alle relazioni anche il wording è importante perché c'è un sottosegretario all'istruzione che dice educazione sessuale è una nefandezza parlare di educazione sessuale è una nefandezza nell'idea che introdurre l'educazione sessuale magari fra i più piccoli possa corrompere bambini che magari invece si ritrovano con il telefonino in mano a educarsi da soli vedendo cose totalmente distorte quelle sì nefande e invece appunto si è scelto questa via sperimentale il ministro dell'istruzione ha scelto queste 12 che potrebbero essere in realtà invece fino a 40 ore di attività extracurricolari al pomeriggio in forma sperimentale si vedrà ci torniamo sul tema dell'istruzione però volevo ancora stare sulla manifestazione intanto sapere che piazza è la domanda che piazza è che piazza era la vorrei rivolgere anche a Mario Giro ma l'hanno già detto prima di me una piazza nuova secondo me si è vista anche la differenza ma una piazza femminista sì sì una piazza femminista è una piazza femminile una piazza di donne in cui le donne hanno il protagonismo gli uomini finalmente tacciono e si è vista la differenza di età però le donne più adulte usano ancora nel loro nel loro linguaggio dei temi degli anni passati invece le ragazze più giovani sono molto più sono diverse e secondo me è più fresco perché anche questa divisione questo tentativo di mettere la piazza a sinistra centro a destra sopra sotto secondo me è sbagliato altro discorso molto giusto è quello che fa Giovanna Fregonara su come canalizzare questa forza perché non si disperda perché purtroppo come si può canalizzare come si può questo è difficile dirlo adesso perché bisognerebbe che le forze sociali e le forze politiche registrino questa novità e ne tengano presente quello che si è detto che diceva Orsola Riva sull'educazione sessuale molto importante anche perché ormai veramente la scuola poveretta non ce la fa più ormai ci si educa in tanti altri modi sarebbe siamo già in ritardo diciamo e penso che questo discorso sulle donne debba essere affrontato a tutto tondo da donne secondo me da donne in maniera e in questo senso dobbiamo dire che l'Italia in questo senso è indietro e nello stesso tempo è anche avanti abbiamo una presidente del consiglio donna abbiamo una leader dell'opposizione donna hanno tentato un dialogo fra di loro adesso non voglio buttarla in politica ho detto che non bisognava buttarla in politica però è anche significativo questo questo dà l'idea che se siamo in ritardo quello che già diceva corso la riva molto bene allora ci dobbiamo fermare per la pubblicità restate con noi saluto Mario Giro che so che dove andare via e subito dopo riprendiamo questa discussione molto anche da chiedere a Giorgia Serughetti perché che conosce bene l'ambiente e i movimenti femministi allora di nuovo in diretta torno da Giorgia Serughetti volevo chiederle due cose la prima prima diceva Gianna Fregonara chi può intercettare che cosa che cosa si può fare di questa piazza e che cosa si dovrebbe fare di questa piazza e di questa partecipazione e chiedo anche a lei se era una piazza antigovernativa antimeloni contro la destra contro Dio, Patria e Famiglia sicuramente contro la destra Dio, Patria e Famiglia era però è sempre stata una piazza per certi versi antigovernativa cioè anche quando i governi erano diversi perché il tipo di radicalità di domande che salgono da quella piazza ogni 25 novembre non è assunta pienamente non è mai stata assunta pienamente nei programmi di nessuna maggioranza di governo quindi c'è sempre stato uno scarto rispetto alle forze di governo no? quest'anno se vogliamo come anche l'anno scorso confrontandosi con il governo più a destra della storia della Repubblica naturalmente lo scontro è anche politico no? in questo senso ma politico non partitico quindi insomma è importante anche mantenere distinzioni certo che c'è un conflitto quando Eugenia Roccella dice un peccato che sia una piazza che provoca divisioni secondo me non coglie proprio il punto certo che quella piazza deve creare divisioni deve creare divisioni tra chi è da questa parte nel senso a favore di una trasformazione radicale dei modi di vita che ha un investimento ampio in politica di contrasto della violenza e chi invece pensa che il femminicidio tutto sommato sia un problema di alcuni uomini malvagi no? Perché nella piattaforma è mancato il riconoscimento e la critica nei confronti degli stupri del 7 ottobre commessi da Hamas sulle israeliane? Secondo me quello è stato un errore io credo che la foga fosse quella di appunto schierarsi a difesa di una popolazione che in questo momento è sotto attacco come quella di Gaza dove stanno perdendo la vita migliaia di persone tra cui moltissime donne tra cui tantissime bambine e bambini e quindi si è mancato un passaggio invece essenziale perché io non credo che il femminismo debba mai farsi accusare in qualche modo di essere arruolato diciamo in una guerra in una parte ma sempre dalla parte di chi subisce le violenze invece e quindi dalla parte di tutte le vittime e questo io credo questo è il mio femminismo quello che io pratico e a cui credo ma credo che in quella piazza ci fossero tantissime persone che la pensano così il tentativo anche di bollare quella piazza come antisemita e quindi di far valere insomma quel tipo di critica non ha funzionato le persone sono scese in piazza riconoscendo che nella causa che stavano sostenendo cioè la lotta contro la violenza c'era tutto c'era anche lo stringersi accanto alle vittime alle famiglie delle vittime degli attacchi del 7 ottobre tanto che poi tra l'altro in conferenza stampa in realtà è stato detto certo però era rimasto naturalmente questa scritta poi c'era qualche bandiera devo dire pochissime bandiere palestinesi e poi c'è stato anche l'episodio insomma qualche slogan eccetera però volevo chiedere a Gianna Fregonara che con Orsola Riva hanno scritto questo libro non sparate sulla scuola in cui spezzano una lancia in realtà a favore della scuola italiana che non tutto va male tante cose vanno male ma non tutte e però rispetto a questo particolare momento e anche alle richieste che vengono affidate alla scuola perché in casi che sono stati scoperchiati non soltanto dalla vicenda di Giulia Cecchettin da questo femminicidio ma anche dai precedenti ci sono tante aspettative sulla scuola l'educazione sentimentale sessuale effettivamente può essere una soluzione ci si aspetta troppo questo è proprio un caso di scuola quando c'è un problema un problema che riguarda tutti che cosa si fa alla scuola e quindi anche e si dice lo deve risolvere la scuola giusto sicuramente naturalmente un problema così che riguarda la violenza di genere non può essere soltanto affidato alla scuola però la scuola è importante perché è vero che la famiglia qualcuno ha detto è il primo luogo dell'educazione giustissimo ma ci sono momenti e ci sono famiglie che non possono fare questo quindi la scuola ha questa grande importanza perché è per tutti la nostra scuola pubblica quindi è lì può essere un luogo e un tempo dove si può fare si possono discutere e si può fare educazione anche su questi temi il tema dell'introduzione dell'educazione sessuale o dall'affettività o le relazioni insomma ci siamo capiti cosa intendiamo a parte diceva Orsola che c'è un po' in tutta Europa addirittura sono già stati fatti anche degli studi che dimostrano che nei paesi dove c'è l'educazione sessuale o l'affettività c'è una si vive molto meglio i ragazzi riescono a vivere meglio le proprie emozioni ci sono meno gravidanze indesiderate per esempio perché diciamo oltre alla violenza c'è anche proprio l'idea di vivere una parte della propria personalità identità in modo migliore più appagante adesso si parla di introdurre le ore sono 12 30 40 ma non è un problema di ore non è un problema di dire tolgo le ore all'italiano per fare no sono competenze anche di immaginare che cosa e come farle l'idea di introdurre questa educazione vuol dire che i bambini i ragazzi gli studenti devono avere delle competenze alla fine devono raggiungere diciamo dei traguardi anche di autoconsapevolezza quindi questo si ottiene con dei progetti magari viene lo psicologo una volta viene uno scrittore gente che deve essere preparata quindi devono essere preparati gli insegnanti quindi quando si dice di introdurre l'educazione all'affettività significa che gli insegnanti devono essere preparati anche ad affrontare questi temi in modo adeguato perché ovviamente è un bambino di 6 anni insomma non bisogna neanche dirlo uno di 15 dicono gli studi che bisogna iniziare presto con cose semplici e bisogna fare dei progetti nell'ambito anche delle altre materie per esempio spessissimo lo fanno gli insegnanti di biologia in alcuni paesi addirittura gli insegnanti di religione altri quelli di filosofia ci sono tante esperienze e non è una cosa così complessa noi abbiamo l'educazione civica la cosa più semplice perché anche non sembra che fare una legge c'è una legge che riguarda il voto di condotta in Parlamento basterebbe aggiungere lì un articolo che introduce io dico nell'ambito dell'educazione civica ma insomma si può scrivere come si vuole anche questa questa l'introduzione di un forme di educazione all'affettività che significherebbe insomma intanto renderlo strutturale renderlo strutturale è obbligatorio perché vuol dire questo è il punto quindi curricolare esattamente anche perché è extracurricolare nel pomeriggio già ti immagini siamo stati tutti adolescenti chi è che nel pomeriggio si può fare il corso di teatro o di inglese non può essere la stessa cosa però chiedo se nei paesi avete detto che in tutti i paesi europei nella grande maggioranza ci sono questi corsi se un riflesso positivo sulla piaga del femminicidio cioè se un risultato anche rispetto a questa tendenza si può riscontrare non sono nati con quello scopo perché in molti paesi soprattutto nei paesi anglosassoni sono nati per prevenire le gravidanze precoci l'educazione sessuale serviva a istruire per questo andava fatta precocemente perché doveva servire a prevenire le gravidanze le maternità in giovanissima età e su questo si sono innestati altri problemi l'HIV la piaga dell'AIDS e poi anche adesso stanno registrando questo tipo di problemi ma sono nati in un altro contesto e con un altro scopo io penso comunque che sia importante anche premesso che è fondamentale introdurre l'educazione sessuale a scuola punto a capo penso però che valga un po' per l'educazione sessuale come per il resto il punto di vista che ci siamo date nel nostro libro quando diciamo non sparate sulla scuola non è per dire che tutto va bene a scuola e che si fa tutto quello che si deve fare nel migliore dei modi possibili ma che non si può accollare alla scuola la responsabilità unica come se la scuola potesse curare tutti i mali del mondo l'ha detto anche l'altro giorno Mattarella cioè dietro le violenze di questi giorni c'è una società che non riesce a promuovere una cultura dell'eguaglianza a scuola ma anche nel mondo del lavoro certo volevo chiedere proprio questo vorrei tornare da Giorgia Serughetti sull'aspetto società non solo perché al fatto che la società esiste contro quello che diceva Margaret Thatcher che è il lead insomma il titolo del libro ma l'aspetto più allargato quando si dice c'è una cultura che deve cambiare si dice una cosa questo l'abbiamo sentito dire molte volte si dice si pone un traguardo complicato che non può essere affidato solo alla scuola anche se la scuola sicuramente è un elemento fondamentale importante e quindi volevo chiederle come come si può fare cosa bisogna cosa bisogna fare rispetto a una realtà che anche diciamo tutte le analisi che sono state fatte sul caso di Giulia Cecchettin fanno vedere che insomma ci sono anche spinte contraddittorie in questo mondo dei ragazzi dei giovani ci sono le ragazze che da una parte vogliono un fidanzato gelosissimo dall'altra giustamente combattono il patriarcato i ragazzini che sono in mezzo a queste frustrazioni incapacità di gestire la frustrazione abbiamo sentito argomenti un po' di tutti i tipi e però anche realtà perché questo tipo di conflitto di contraddizioni fanno parte di questa epoca dei giovani di questa epoca sì parlare di società che esiste contro invece appunto quella famosa frase di Thatcher per cui la società non esiste significa riconoscere che esiste una responsabilità collettiva diciamo per i torti sociali e quindi anche una responsabilità di intervenire sul terreno delle ingiustizie che non sono problemi riducibili a una questione di volontà individuale volontà di emanciparsi volontà di risolvere diciamo le questioni relative alla propria vita con le proprie forze perché quello è stato il grande messaggio di quella società non esiste esistono gli individui non ci sono delle questioni strutturali che sono oltre sopra gli individui e che gli individui non sono nella condizione di poter affrontare da soli ecco quindi questo richiama la responsabilità collettiva che significa sicuramente cambiamento grande e giustamente come veniva detto poco fa significa mettere mano alla cultura a partire dalla scuola ma perché la scuola è l'unico luogo in cui passano tutte e tutti non ce n'è un altro dove poter intervenire a livello educativo in maniera strutturale e apro chiuso parentesi l'educazione di genere nelle scuole già si fa cioè chi vuole già la fa era lì che andava fatto un cambiamento un cambio di passo perché finché rimane opzionale legata al consenso informato dei genitori c'è ben poco da fare quello già si fa da tanto tempo e peraltro la legge del 2015 buona scuola aveva un com un articolo che diceva che bisognava fare educazione per opportunità quindi quello in realtà non è affatto una novità però oltre alla scuola giustamente veniva detto il mondo del lavoro ma sono tantissimi mondi cioè si tratta proprio di riconoscere che abbiamo un problema che abbiamo un problema che non è riducibile a una questione di sorti individuali ciò che ci tocca in sorte e ciò che facciamo con i nostri talenti ciò che possiamo fare da soli o con le persone che abbiamo intorno in quanto familiari in quanto amici in quanto persone prossime abbiamo bisogno di pensare collettivamente quando diciamo che tutto questo è collettivo lo chiedo Alberto Gentili ma poi a tutti per una conclusione non si toglie qualcosa tornando al caso di partenza scatenante il caso Cecchettin si toglie qualcosa alla responsabilità individuale di Filippo Turetta è come fare del sociologismo fare uno sconto è un faccio d'avvocato del diavolo vorrei mettere anche questo piano sono piani diversi uno ha una responsabilità personale quella di Turetta che insomma dovrà pagare per quello che ha fatto e poi c'è un aspetto che riguarda la responsabilità di una società non l'affrontare problematica non è l'aspetto della società uno sconto sul comportamento individuale ecco questo volevo no non lo avevo uno sconto anche perché è talmente efferato quello che è accaduto che non ci può essere una scontistica su questo invece mi ha sorpreso che non è ancora venuta alla ribalta non è stato ben dosato il fatto che le donne nel raccontare il loro dolore dopo la morte di Giulia abbiano spesso quelle che sono state vittime di violenza sessuale denunciato il comportamento delle forze dell'ordine non idonee ecco questo è un aspetto che non si è ancora approfondito anche lì serve una formazione anche lì serve una formazione molti hanno raccontato di una serie state protette come avrebbero voluto che non sono state ascoltate che gli è stato chiesto non come erano state violentate ma come erano vestite torniamo al punto di partenza quindi non solo le scuole ma anche negli apparati dello Stato c'è tanto da lavorare Gianna Fregonara su diciamo aspetto sociale e aspetto particolare o individuale naturalmente c'è il caso e se ne occuperanno i magistrati la giustizia e sicuramente però ecco questo caso nella sua drammaticità e ferratezza ha avuto come dire come esito anche di richiamare di nuovo l'attenzione sul fenomeno sul fenomeno dei femminicidi ma in generale sul fenomeno di una violenza che non sempre fortunatamente porta alla morte ma non per questo è meno grave e direi è anche molto abbiamo scoperto molto diffusa è molto diffusa per questo è molto diffusa e non ho citato un sondaggio pubblicato dalla stampa un sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghiseleri che dice però che un italiano su quattro abbiamo scoperto che tante cose sono diffuse ma che un italiano su quattro dice questo sondaggio ignora i femminicidi nel senso che non riscontra l'aspetto emergenziale non è un'emergenza ma non è questo è interessante del cammino che c'è da fare e dell'educazione che serve Orsola Riva ma qualche giorno fa ho visto delle immagini riprese alla sapienza di una manifestazione di ragazze e devo dire che sono rimasta molto impressionata sia dalla qualità degli interventi che erano lucidissimi sia da quello che dicevano perché un paio di ragazze raccontavano di avere subito una violenza da parte dell'ex fidanzato e di queste cose un tempo non si parlava penso siano sempre successe cioè di subire dei rapporti non consenzienti da parte di una persona con cui stai che sia il tuo compagno il tuo fidanzato il tuo marito capita anche questo naturalmente e allora intanto bene che se ne parli bene che se ne parli perché è più facile riconoscere il mostro che non la violenza domestica quasi quotidiana che viene derubricata spesso le vittime si vergognano e quindi non la denunciano e però resta il fatto secondo me che ci vuole un intervento di sistema più ampio in un paese come il nostro che ha il più basso tasso di donne che lavorano d'Europa e donne che non lavorano sono donne che non riescono a ottenere un'autonomia e un'indipendenza economica dai propri compagni dai propri mariti questo è sicuramente l'altro aspetto mi dispiace finisco solo con una battuta c'è un proverbio africano che dice per educare un bambino ci vuole tutto un villaggio ecco dobbiamo ritrovare il villaggio mi sembra una buona conclusione Giorgia Serughetti sì sì infatti anche per tenere stretto quel nodo tra responsabilità individuale e collettiva che stavate dicendo c'è importantissimo che il fatto di riconoscere un sistema che induce comportamenti violenti non significhi appunto sminuire o ridurre la responsabilità del singolo uomo violento che naturalmente fa delle scelte nel momento in cui agisce violenza tanto più una violenza omicida come quella appunto di accoltellare la propria amata che è una cosa terrificante e anche molto difficile capire come avviene poi quel passaggio dall'agito violento quotidiano violento nel senso controllante abusivo eccetera che faceva leva su un senso di colpa peraltro su un ricatto affettivo però però quel villaggio io ecco proverei a tenerlo ben presente quando parliamo non abbiamo pronunciato la parola patriarcato ancora oggi però la dicevano nella manifestazione quindi non possiamo girare questa la domanda sul patriarcato Alberto Gentili perché non c'è tempo ma sicuramente ne parleremo ancora linea Andrea Pancani per Coffee Break grazie ai nostri ospiti grazie a voi che ci avete seguito buona giornata a domani grazie a tutti